Al via la stagione dei saldi, fino al 5 marzo i cittadini campani potranno fare shopping a prezzi scontati. Ad Avellino questa mattina tanta la gente, lungo corso Vittorio Emanuele, incuriosita dalle vetrine allestite per i saldi invernali. Un giro di ricognizione per valutare gli acquisti da fare, cercando di trovare l'occasione per comprare quel capo tanto sognato ma a prezzo ridotto. Tra gli acquisti che si faranno, approfittando dei saldi, saranno innanzitutto le scarpe. Seguono prodotti di maglieria, capi spalla, capi di camiceria, magliette e intimo. Al momento non si registrano particolari affollamenti nei negozi. Da un lato sicuramente ancora presto per tracciare un bilancio, dall'altro i consumatori dovranno fare bene i conti. Secondo le stime, la spesa media pro capite si aggirerà tra i 137 euro e comunque non superiore ai 200 euro. La media è un po' più bassa di quella nazionale e secondo Confesercenti, 4 campani su 10 sarebbero pronti ad acquistare, mentre i restanti 6 non hanno ancora deciso quanto spendere, probabilmente spaventati dai rincari annunciati nei prossimi mesi. Le famiglie si aspettano degli aumenti infatti sulle bollette delle utenze, oltre che sulle materie prime. Molti dunque compreranno solo di fronte ad un'offerta convincente, ma è presto per tirare le somme.